Un'altra bella animazione virtuale sta su Wikipedia. Qui vediamo il campo elettrico che è colorato di rosso, questo è il profilo sinusoidale, il campo induzione magnetica è colorato in blu e i vettori oscillanti localmente in un punto dello spazio sono indicati con queste due frecce, freccia rossa campo elettrico, freccia blu il campo induzione magnetica. Qui si vede la lunghezza d'onda tra due creste, per esempio, del campo elettrico. L'onda si propaga in questa direzione e quindi l'onda elettromagnetica è un'onda doppiamente trasversale perché sia il campo elettrico che il campo induzione magnetica E e B oscillano trasversalmente alla direzione di propagazione dell'onda.